E sugli ultimi sbarchi di immigrati, tra cui anche molti bambini, sentiamo la senatrice della Lega Nord, Erika Stefani, sempre ai microfoni del nostro inviato da Roma, Davide Cordua. Le politiche della Chienghe sono una bomba umanitaria. Questo non l'ha capito il Partito Democratico, che sta facendo ideologia sulla pelle dei bambini. La nostra intenzione non è quella di offendere nessuno, ma togliere il velo dell'ipocrisia che copre la realtà su queste tematiche. Lo dichiara la senatrice della Lega Nord, Erika Stefani. La realtà è che le parole della Chienghe sono un potenziale rischio per il nostro paese, ha continuato, come dimostrano drammaticamente gli ultimi sbarchi. Qui siamo di fronte veramente a un problema molto delicato. Gli annunci fatti dal ministro a riguardo gli ussoli sono in realtà un inizio di quello che noi abbiamo già cominciato a vedere con questi primi sbarchi. Dobbiamo renderci conto del dramma umanitario che si potrà venire anche a creare. Ci sono delle persone che stanno cercando di vivere anche un momento, forse anche di una speranza. E con questo cosa ci troviamo? Con queste persone che stanno trovando anche con bambini in difficoltà, che stanno cercando di accedere al nostro paese, dove rendiamoci conto, siamo di fronte a una crisi che difficilmente è già grave per noi, difficilmente possiamo dare sicuramente un alloggio, un sostegno a queste persone. Siamo di fronte a un disastro umanitario, questa è l'anticamera di un disastro. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo prevenire, non solo la tutela al nostro territorio, ma la tutela anche di queste persone che si trovano veramente di fronte a delle vere difficoltà anche per se stessi.